no no vai è tranquillo no sennò ti passiamo davanti ti affumichiamo meglio ciao e per forza pulire avanti almeno ce la leviamo dalle spalle oggi è tutto così oggi non c'è modo metteremo sulla lama davanti sulla ruotina e via almeno sapete chi è stato poi a pulire come sempre ormai solo noi siamo rimasti bravo esatto i due nonni no no ce la facciamo i due nonni oggi erano in ritardo per quello che si è arrivati dopo se noi eravamo già altro che andati poi ne abbiamo trovati altre due di là dietro dove passano anche i cavalli infatti ho visto che voi siete arrivati da sinistra esatto sì perché di là c'è tutto l'altro poi esci sopra la cava e ritorni fuori ma lo potete fare tranquillamente ritorni fuori costeggi tutta la rete della cava no a scendere non glielo consigliare che è pieno di rovi perché l'abbiamo pulito ma passando i rovi si schiacciano eh certo se la prima buchiamo noi no no c'è lui che dona sangue tutte le volte quindi non c'è pericolo se non volete portare la motosega grandi bravo no a noi sì noi ormai siamo eh figaro noi ormai siamo cioè vuoi mettere una figata una figata e tagliano di bestia piccole un altro per i rovi e i rametti piccoli no no poi dopo c'è lui ci penseremo c'è la motosega vitto secondo me tagliamo il pezzetto lì poi la spostiamo riusciamo in 3 o 4 sì così lasciamo lasciamo il pezzetto no lo tiriamo in su come c'è te fai non riesci a tirarlo giù è attaccato con l'eder non riesci lo spostiamo di lato e basta oi fai mi chiamano Montesa laura troppina di vado io a qui taglia questi due che sono più piccoli no in me no ma ascolta se noi mettiamo la taglia di là la spostiamo di là o così no la tagli qui e poi la taglia di là la mettiamo lì dai dai lo taglia eh ma tanto tanto qua e allora basta tagliala qua e basta poverino è per quello che è caduta peccato che dovranno tagliare anche lui e quindi era poverino e quindi i cavalli arrivano qua oi 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 Sto filmando Mizzica, guarda cosa teneva, mezzo centimetro, dai vieni qui Marco, vieni qua, se no ti buttiamo giù anche te, vieni di qua, guarda che se non la tagli la, non la sposti, la devi tagliarla strano ma vero, grazie più piccolo grazie a tutti Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Una volta l'abbiamo sempre fatto.